Allora, buongiorno a tutti, oggi andiamo con una prima intervista nel ambito di un percorso che potremmo definire le vie dell'acqua e in cui siamo Daniele Petricca. Allora, Daniele, ben trovato. Buon giorno, ben trovato a te Loana e ben trovato agli amici. Grazie. Allora, grazie a te andiamo in posti in cui l'acqua domina la scena. Già ho avuto modo di pubblicare delle foto molto belle di Daniele, però prima di tutto, chi è Daniele? Allora, innanzitutto alias Drago Daniel, così su Facebook mi rintracciate. Un nickname che mi sono dato qualche primavera fa e nulla, va bene. Io ho qualche primavera, ce ne ho 42 di primavera e sono libero professionista, avvocato, giornalista per passione e da qualche anno escursionista per passione, soprattutto per quanto riguarda l'Appennino centrale, quindi intendesi Sannita, a Morisano, a Bruzzese, insomma, tutto quello che è anche Campano, se vogliamo. Una passione che è nata proprio perché le vie dell'acqua hanno cominciato a incuriosirmi e devo dire che siamo ricchi d'acqua e c'è talmente tanta che va scoperta. E dici un po', tu, appunto, questo percorso che abbiamo deciso di chiamare le vie dell'acqua perché tu segui i percorsi che porta, diciamo, proprio la strada che fa l'acqua, però alla fine tu arrivi a vedere delle cose meravigliose. Raccontaci un po', cioè, da dove parti, con quali mezzi ti muovi? Allora, Luana, intanto, diciamo, viviamo in un territorio abbastanza selvaggio, no? Quindi in the wild. Selvaggio. Eh sì, questo vuol dire che è frutto, innanzitutto, non so se è un pregio o un difetto a volte, poiché noi siamo abituati a vedere, insomma, anche sui siti, le Alpi, l'Abruzzo, insomma, zone molto più, dal punto di vista turistico, sviluppate anche per la sentieristica, cioè il turista è molto più accolto, condotto, portato. Nel nostro caso, tu sei portato dall'istinto, dalla passione e ti ritrovi nella natura aspra. Questo per gli appassionati è un bene, perché tu scopri veramente cosa è la natura. Per chi lo è meno, è un po' meno. Quindi cosa mi ha spinto? Mi ha spinto, innanzitutto, l'amore e la passione per questo territorio, che è il Molise, ma che io intendo come sagno, inteso come antico sagno, di cui molto si saprà o se si sa poco si può andare a leggere, a vedere, a documentarsi. E sono stato spinto dall'acqua, che è un'adrenalina per me, cioè la cascata, l'acqua, tutto ciò che acqua è adrenalinico per me. E poi mi sono domandato come mai i sanniti, un po' come quello dei sanniti, potesse con questo freddo, con queste condizioni, con questo territorio, radicarsi qui e combattere contro i romani. Non volessero andare, quindi per essere sconfitti, ci abbiamo messo. E questo ti porta, ti porta nei borghi, nei corsi d'acqua, ti porta a scoprire anche degli angoli, ecco che come tu hai qualche volta, ti ringrazio insomma, evidenziato, degli angoli stupeggi, dove c'è tanta acqua, tante cascate e tanta natura. Tutto qua, molto semplice. Tu precisi anche questa cosa, tu non segui dei percorsi e dei sentieri già stabiliti? No, no. Quindi tu studi o ti affianchi a persone nel momento in cui intraprendi un percorso? No, Luana, io mi affianco a Google Map, cioè ci sono praticamente. Però conosci già il territorio nel quale ti muovi? Allora, inizialmente sì, devo dare il mio ringraziamento ad alcune persone senior, più anzianotte di me, con questa stessa passione, che mi hanno segnalato i corsi d'acqua più importanti. Ok, quindi precisiamo, non vi avventurate da nessuna parte, da soli non potete andare. Allora, sull'80% dei percorsi fluviali molisani, no. Ok. Però nel 20%, come alcune cose sono state anche divulgate anche quest'estate, ci sono percorsi fruibili, però sono percorsi natura, non vi aspettate pre-da-portei o le cose che trovate altrove, cioè sono sentieri natura, che è bello forse anche. Chi mi ha preceduto mi ha dato degli input, che però sono rimasti un po' lì nel dimenticatoio. Io invece ho cercato nell'era dei social di divulgare un qualcosa che da solo si pubblicizza, non c'è bisogno che io esalti più di tanto, basta una foto, cioè uno scatto, degli scatti, per far capire. Per arrivare a questi punti sono stato, insomma, indotto da queste persone più anziane. Poi però cosa succede? Che tu seguendo il corso dell'acqua, quindi risalendo i fiumi, oppure riscendendoli, oppure poi guardando anche dalla mappa, che ci sono tutte delle gole, cioè voglio sfruttare, e tu le vai e gli dici oggi sono mezza giornata, posso andarmene al bar e faccio un caldo, perché viviamo in un posto, io faccio l'esempio di di Sernia, perché sono di Sernia, Boiano, posso fare tanti esempi, sei vino, cioè tutti i borghi molisani, quasi tutti, sono sull'acqua. E questa cosa è un gran vantaggio. È un gran vantaggio. Chiaro che poi dopo bisogna inoltrarsi, perché purtroppo le istituzioni locali non hanno capito ancora l'importanza di queste cose, e allora il tipo selvaggio come me se ne va a scoprire. Ecco, ed è chiaro. Allora, io direi una cosa, visto che Daniele sa tantissime cose, ed è questa una cosa importante che possiamo condividere pian piano, perché altrimenti, diciamo, l'attenzione comincia a calare e creiamo anche un po' di suspense per un'altra volta, io direi per oggi ci fermiamo, e poi la prossima volta ci vai a raccontare delle foto bellissime che abbiamo visto pochi giorni fa, relative alle cascate della Valle del Sanginale. Quindi, vi aspettiamo prossimamente, salutiamo Daniele e gli diamo appuntamento per un altro giorno. Buona giornata a tutti! Grazie a voi per l'ospitalità! Ciao Luana! Grazie a tutti!